Sì ragazzi è un messo, vati a 10 iscritti! Sì lo so E ora vi sarete che non so che ora mi devo mettere Bene, allora Te l'hai detto però è corrino un'altra Ma tanti Lei, c'è davanti Non semplicemente cucita Ma aggiustata Quindi io così No no La mente indimentica C'è quello che vuole io Quindi era un momento toglierò troppo 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 Sola, provare con il video. Sola, provare con il video. Sola, torni. Sola, provare con il video. 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 Ok. Qui lo vorrei. Sola, provare con il video. Sola, provare con il video.